Assessore Mascia, ripartono i cantieri nella città di Pescara, questo stop forzato che cosa ha comportato? I lavori che potevano essere già conclusi da qualche settimana rispetto sostanzialmente a quasi due mesi di stop avranno un ritardo. L'importante è che questi cantieri ripartano, io avrò un report sui lavori che possono ripartire oggi stesso, che sono ripartiti oggi stesso perché vanno fatte verifiche con i RUP, con i responsabili della sicurezza e con le imprese stesse per verificare se hanno tutte le condizioni necessarie secondo le disposizioni governative per poter ricominciare a lavorare. Da oggi inizia per Pescara, per tutte le città del nostro paese, una fase particolare perché sarà incentivato anche l'uso dell'auto privata? Veramente dovremmo disincentivare l'uso dell'auto privata, intanto c'è un servizio di trasporto pubblico locale garantito da TUA, che è un'azienda che ha rivolto mille premure soprattutto al distanziamento personale, autobus che viaggeranno con non più di 10-15 persone, che avranno dei sistemi tracciati anche sia nelle fermate che sia all'interno degli autobus stessi, con una filosofia essenziale che è quella di rendere più frequenti le corse, quindi meno persone, meno passeggeri, ma corse più rapide, anche con servizi espressi. Per cui su questo continuiamo l'interlocuzione con TUA. Dall'altra parte, come dicevo, incentiviamo l'uso della mobilità sostenibile. Insomma, viviamo a Pescara, in una città sostanzialmente pianeggiante per gran parte, e anche per chi abita nelle zone comunque collinari c'è sempre la bicicletta non muscolare, quella a pedalata assistita. Senza poi trascurare il fatto che di qui a qualche settimana disporremo anche di 500 monopattini a noleggio in città. Crediamo nella micromobilità, abbiamo fatto un gran lavoro per regolamentarla, adesso stiamo facendo un gran lavoro per un avviso pubblico che possa portare a Pescara appunto 500 dispositivi elettrici che non diventano solo un divertimento, ma soprattutto costituiscono un valido mezzo ecologico e individuale di spostamento in città.